A Ribera sarà effettuato tra circa dieci giorni il primo intervento di scerbatura che sarà eseguito con il nuovo sistema adottato dall'amministrazione comunale, quello che prevede l'utilizzo di prodotti fitosanitari ad azione diserbante. Non più il classico metodo del decespugliatore, ma un piano di diserbo che consentirà di migliorare l'aspetto estetico della città, ma anche di eliminare le conseguenze che sul piano igienico-sanitario sono legate alla presenza delle erbacce. È una nuova metodologia sulla quale stiamo puntando moltissimo. Fin dai primi giorni durante i quali il sindaco mi ha conferito l'incarico di assessore, quindi durante il mese di gennaio scorso, ci siamo subito focalizzati su questa annosa problematica della rimozione, eliminazione delle erbe selvatiche, che non permette alla nostra città di essere decorosa come tutti vorremmo. Ci siamo resi conto che la metodologia fin qui usata non è efficace, è dispensiosa dal punto di vista economico e non è efficace. E così ci siamo messi al lavoro e abbiamo intrapreso questo percorso. Quindi questa nuova metodologia che attraverso l'utilizzo di prodotti ecocombatibili e fitosanitari ci permetterà, ne siamo sicuri, di eliminare chiaramente in maniera graduale il problema. Con questo nuovo sistema l'amministrazione conta di garantire una maggiore pulizia ed un maggiore decoro urbano, non solo nella città ma anche nelle borgate estive e di ottenere contestualmente anche un risparmio rispetto ai costi del tradizionale metodo di scerbatura. Da un punto di vista geografico Ribera è una città molto estesa, comprende anche tre località balneari molto estese anche esse. E quindi il vecchio metodo del decispugliatore non riesce ad andare dietro ed essere efficace. Servirebbero un numero così elevato di dipendenti per risolvere il problema in quel modo che Ribera non ha, così come noi, così come altre città. Ribera è il primo comune siciliano ad adottare il piano di diserbo ecocompatibile messo a punto da Ciro Miceli. Questo intervento che noi andiamo ad effettuare con delle molecole che sono in questo caso biodegradabili, in questo caso non danno alcun fastidio nell'ambiente, né tanto meno in questo caso agli animali, né tanto meno in questo caso a esseri viventi che si trovano nella zona dove viene effettuato il trattamento. L'azione chimica, o per mio dire a livello scientifico, l'azione di questo prodotto è che va a colpire la parete cellulare, in questo caso la cuticola che viene degradata, si ha la penetrazione di questo prodotto all'interno del tessuto cellulare e quindi vengono in questo caso degradate. Di conseguenza si ha un'azione di disidratazione. È un prodotto che dà dei risultati che si possono vedere dopo circa 15-60 minuti massimo e ha in questo caso una durata di circa 5 ore. Considerando che i costi per la manodopera sono esorbitanti, in questo caso non andiamo evidentemente a risparmiare, allo stesso tempo cerchiamo di essere incisivi con una maggiore efficienza e dando in questo caso un maggiore decoro alla città a livello estetico. Quindi viene rallentata la crescita di questa vegetazione spontanea? Praticamente noi andiamo a rallentare la crescita e andiamo a distruggere le erbe investanti che vanno a ridurre anche la loro crescita e di conseguenza a creare delle problematiche, faccio un esempio nel caso dell'ambito urbano, queste erbe investanti quando iniziano a crescere e raggiungere altezze di 20-30 cm innanzitutto creano delle problematiche sia di visibilità nei cigli delle strade. Si crea in questo caso il sollevamento del mando stradale e si ha la permanenza di sporcizie e di conseguenza funghi o batteri di vario genere.